Siamo qui al diciannovesimo congresso mondiale di broncologia e pneumologia interventistica. Perché questo congresso è innovativo? Qual è la peculiarità? La peculiarità di questo congresso è che mette insieme diversi specialisti. La medicina di un tempo ragionava sempre secondo un criterio unico in cui il singolo medico, il singolo operatore era quello che decideva la strategia terapeutica migliore, la diagnosi eccetera. La società che io presiedo che è la International Broncos of Ecology Society è una società a livello mondiale che mette insieme otorino-aringoiatri, chirurghi toracici, specialisti in malattie respiratorie. Ecco tutto questo è innovativo perché per la prima volta in un tempo in cui come il nostro tutto tende ad essere condiviso, tende ad essere frutto di una scelta condivisa fra diversi specialisti, questo congresso mette insieme diverse specialità che non parlano più singolarmente delle singole materie ma parlano insieme di temi comuni. E questo è il modo migliore per arrivare ad una terapia che sia quella migliore per il paziente offrendo così le migliori probabilità di cura e di guarigione.